Il nostro amico Italo Polmieri ci ha rinvitato qui allo IAV in arte Vesuvio anche perché c'è la nuova sede di Dama Club Italpa E' preparato il mio amico Italo, complimenti perché questa sera c'è una sorta di happening, c'è un appuntamento importante per programmare la ripartenza della bellezza Sì, la ripartenza dei saloni di bellezza sia quelli maschili che quelli femminili che anche i centri estetici Stasera faremo il punto della situazione, una fotografia proprio su quello che è accaduto in questi due anni tra pandemia, adesso la guerra con tutte le problematiche E' una rimodulazione vera di quello che è il lavoro che resta comunque un lavoro artigianale del parrucchiere Speriamo che si vada a ricompattare anche questo settore che è molto importante Sì, noi parleremo delle difficoltà che ci sono oggi a cominciare dal caro Bollette, giusto per citare quella che in questo momento è la materia più pesante da sviluppare E allo stesso modo, come ben si sa, è una ripartenza che passa anche attraverso delle opportunità Opportunità che dobbiamo essere capaci di sfruttare, che la categoria deve essere capace di sfruttarlo Perché è il momento di abbandonare il passato, dimenticare tutto quello che era il passato E a cominciare proprio dalla comunicazione, porsi in un modo diverso A proposito di comunicazione, è sempre difficile farla, soprattutto far conoscere bene i prodotti Ce n'è uno in modo particolare che noi seguiamo perché è anche uno dei nostri official sponsor all'undicesima edizione del concorso Ragazza Weekend Dance Siete dico Beauty Trip Dici quello che è il progetto, a mio avviso, più interessante di sviluppo in questo momento Perché parliamo della più grande piattaforma italiana, forse speriamo anche mondiale, un domani, del settore bellezza L'opportunità che nasce da questa piattaforma è proprio quella di presentarsi sul mercato in un modo nuovo e completamente diverso rispetto al passato Il digitale la fa da padrone in tutti i campi e noi crediamo che lo possa fare da padrone anche nel campo della bellezza Anche perché è ancora più veloce la comunicazione perché tu su un portale chiedi tutte le informazioni che vuoi Infatti abbiamo questa grandissima vetrina che sta partendo proprio in queste settimane E anche grazie a iniziative come quella che tu sostieni da 11 anni Le ragazze, le donne potranno conoscere tutto quello che vogliono attraverso www.beautytrip.it Itolo, intanto ci ha raggiunti una persona che tu conosci bene, no? Eh beh, certo, il nostro amico Gigi Nardullo che è coinvolto a piene mani nel progetto Beauty Trip È stato con me quello che lo ha creduto in questa idea Come nasce l'idea Beauty Trip? Allora, nel maggio 2021 Italo mi chiama perché diceva che ha organizzato un convegno sul PNRR per i parrucchieri Come possiamo dare una mano a questa importante categoria di artigiani per risollevarsi dalla pandemia, dal fermo, eccetera, eccetera Ci penso un attimo e diciamo, guarda, siccome venivo da un'esperienza del campo digital molto interessante Il direttore di traccio è uno schema, uno molto semplice E da questo schema sono andate una ventina di pagine che lui ha presentato in questo convegno E dopo poco ci siamo messi al lavoro per costruire questo progetto E abbiamo coinvolto anche un maestro nel campo del digital Ed è nato questo progetto, ci ha già tipo 250.000 utenti Quindi significa che l'abbiamo scelto bene e la strada è già tracciata Dobbiamo semplicemente portare a casa i risultati, soprattutto per i parrucchieri e i centri estetici Che hanno bisogno di un po' di attività, di lavoro per migliorare la loro posizione Grazie a tutti Grazie a tutti